Ciao ragazzi caso mi conoscete io mi chiamo Leopollo e sto facendo questo video qua abbastanza corto solo per dirvi cosa è successo e anche cosa succederà da qui in poi con il canale Vi dico non è un bait non è un troll ok questa si potrebbe essere veramente alla fine del canale e vi voglio solo spiegare il perché Comunque io non sono sparito ok se mi seguite anche sugli altri social i link sono sempre in descrizione Mi vedrete lì ogni giorno su Instagram parlando con voi e anche in live ogni singolo giorno giocando anche con voi Ok comunque grazie a tutti quelli che continuano ad usare CodeLeopollo1 nello shop questo è veramente molto bello per me ok vedere che ancora molti di voi lo usano E va bene dai ora vi spiego praticamente ragazzi io l'ultimo video che ho pubblicato è stato il 29 più di un mese fa e il giorno dopo il 30 30 aprile è il mio compleanno ragazzi Era il mio compleanno ho fatto 18 anni ho fatto una festa eccetera dopo di quello dovevo tornare a pubblicare i video sul canale dovevo tornare a fare i video Però già un po' stanco mentalmente da tutto quello che stavo facendo ho scoperto che non sono un robot no purtroppo Praticamente stavo facendo troppe robe allo stesso tempo non sono riuscito praticamente Ecco ho pensato anche in qualche idea per registrare i video però nel pensiero di cercare di fare qualcosa di più bello Di smettere di fare sempre il solito io ho deciso proprio di non registrarlo e così sono andato avanti La scuola sempre con più roba a questo fine 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 anno sapete com'è anche voi fate la scuola Allora per questo io non ho pubblicato niente per ora e anche per il futuro del canale sinceramente Quello che stavo facendo prima sempre i soliti video su come migliorare su fornite Diciamo a me diciamo lo faccio ormai da due anni sempre quei video ok che portano contenuti diversi però a me stancavano un pochino Se volete migliorare su fornite ci sono tantissimi video qui le mie mappe che vi aiuteranno sicuramente a farlo Però io quel contenuto non lo volevo più vi dico che io potrei provare a portare quel cosino qui sul canale Ok nei prossimi giorni magari vedrete uscire qualche video magari anche cosa è successo con questo braccio qua Un'altra storia bellissima però potrò provare anche a pubblicare non so se lo farò Se lo faccio e va bene amen continuiamo così magari porto un nuovo contenuto Se lo faccio e vedo che non cioè magari non funziona allora magari io tolgo anche i video e questo qua risulta come ultimo video del canale Ok voglio solo avvisare questo Preciso anche che caso io non torni a pubblicare questo il canale vi ringrazio per questi due anni passati Sono stati veramente meravigliosi per me mi sono piaciuti molto quello che ho fatto qui Creare contenuti è una roba meravigliosa ragazzi e a me è piaciuto tantissimo Grazie mille a ognuno di voi che siete iscritti qui sul canale Veramente io come ho detto magari proverò a fare qualche altro video Allora attiva anche la campanella così non perdi nessun aggiornamento Però non so caso mai se succede ragazzi sappiate che mi è piaciuto veramente tanto partecipare qui su youtube con voi Io comunque sono online su tutte le altre piattaforme ve lo ricordo questo Bene e per terminare grazie mille per essere la cena qui e ci vediamo al prossimo video